3, 2, 1, via! Io ce l'ho, ma... Questa è acqua santa questa. Lascio dire lui. Posso fare la mia entrata solta? Sì. Certo. Pia, pia, pia. Porco Dio. Questo video non si può fare, fin quel budget... Il set. Ma l'hai rotto, tranquilla. L'ho rotto. Ma Dada è una giusta cazza, sì. Dada ti può fare. Buongiorno, ragazzi. Bentornati all'interno di un incredibile video. Oggi, però, ci vedrete in delle vesti diverse. Perché? Sei preoccupato adesso? Non mi avete detto niente. Mi sono solo seduto e abbiamo iniziato a girare. Come è successo? L'ultima volta che era così era la patatina più piccante del monte Everest. Oggi, invece, ci saranno tre patatine più... No, scherzo. Ma che mi fate assaggiare quella qua che sta di patata di pagina? Oggi, oggi, adesso, cioè, in questo momento io farò il giudice di questa sfida che vi vedrà coinvolti. E te lo dico io adesso, la prima è braccio di carro. Io non ho paura. Guardate che bicio. Che bicio. Che bicio. In bicio così si parla. Ma vaffanculo. A parte gli scherzi Awed, oggi verrete bendati. Adesso capiamo come. Così entri nel mio mood. Avrete un pulsante per prenotarvi. Cioè, chi si prenota prima potrà dare la risposta. E dovrete indovinare da bendati dieci tipologie diverse di sostanze alcoliche. Oh, bello. Di sostanze stupefacenti, lui stava già pensando. Voi mangiate le patatine con i funghi allucinogene. È vero. No, di alcol. Buono, buono. Quindi buono cosa, buono? No, cioè, nel senso, meglio di quello che... Devi sapere che non mi son preparato perché me l'ha detto anche a me dieci minuti fa. Esatto. Non ha visto le bottiglie. Non ho visto le bottiglie. Cioè, nel senso, siete allo stesso livello. Allo scuro, ma io ero allo scuro dieci minuti prima. Ok, ero al buio. Per rendere la sfida un po' più piccante, chi dovesse perdere, Deve bere uno sciottino, uno sciottino di una bevanda che decide l'altro di quelle presenti. Cioè, chi vince decide lo sciottino che quello perdente berà. Ma dopo dovevo girare altri sei video dovevo girare. E non era meglio fatto per ultimo questo. Ascolta. Allora, non siete... Va bene, va bene. No, le regole sono che non siete obbligati a... Quindi, noi ci rubiamo e tu guadagni da sto video. Come funziona? Perché scusa? Io la sono pagato la bottiglia. Non la vedi questa regola. Non la voglio fare. Io non voglio bere. Ma non devi... Intanto come fai a capire le sostanze? Dovrai almeno mettere... Quello sì, ma no che mi devo... Metti che perdo dieci volte e devo farmi dieci sciottini. No, uno sciottino a fine, alla fine. Ah, ho capito ogni volta che uno perdeva. Eh... Spero che siano solo bottiglie del più pregiato champagne francese. Dada, aveva capito uno sciottino ogni turno. Eh... Uno sciottino l'ho detto a posto. No, uno sciottino alla fine come sfida conclusiva. Chi perde, ok. Esatto. E decide l'altro. Va bene? Oh, siete pronti? Certo. Voi siete... Awe è il massimo esperto di alcol, quindi io starei veramente attento. Eh sì, lui beve, al contrario mio. Un ubriacone per con dia. Ragazzi, diamo immediatamente il via... Alle danze. Alle danze. Sta detta, ma con le palpebre di Luisa, non è che ho gli occhi aperti che vanno in contatto col tessuto. Sta in vita, il tessuto circolare. Cos'era sto rumore all'orologio? Ragazzi, ragazzi, scusate, ma il buzz non ci sarà. L'avevamo preso, ma non abbiamo il cacciavite per togliere la vite. Quindi non dite che noi non spendiamo soldi per realizzare questi cazzi di video. Sì, sì. Possiamo iniziare, ragazzi? Sì. Aspetta, quindi come funziona? Adesso nei bicicletti ci sarà una cosa alcolica? Esatto. Voi dovete berla al mio via. O anche all'usarla, ha detto, eh. O bagnarti le labbra, come vuoi. E praticamente al mio via dovete appunto fare questa cosa. Il primo che dovesse capire chi si prenota prima risponde. Ok. E come ci prenotiamo? Io? Che cazzo è quella faccia? È che adesso non so neanche lo devo guardare io. Dico io? Cosa? Come facciamo a prenotarci? Io? Sì, alzi la mano. Ma io fatti che ho questa sciata per gigante. Allora, davanti a voi avete i bicchieri, occhio. L'hai già versati? No, no, eh, già versati un attimo, cazzo. Siete pronti? Sì. Fermi. Fermi. Che stiamo facendo la copertina? Ma che copertina? Cazzo, sento già. Zitti. Però Dada ha fatto l'alberghiero, quindi è un po' agevolato. Ma quante li stai mettendo? Non sprecarne troppo, eh. Dimmi quando possiamo andare. Sta già annusando. Eh, adesso mi arriva lo stesso. Che cazzo. Intanto tu, no, fermo. Eh, stava già annusando quella. No, ragazzi. Ma da fermo sto usando. Allora, appoggia qua, appoggia qua. Oh, no. Calcolate dove è il bicchiere se no ho fatto un disastro. Ok. Ok. 3, 2, 1, vai! Fe, fe. Io. Eh! Bodka la menta? Quale? Cosa quale? Eh, quale vodka la menta? Eh, ma che cazzo vuol dire? Eh, le altre sono cose precise, quindi devi dire precisamente. Sarà una Kleglevic. Chi? Cosa? Insomma, come si chiama quella? Come si chiama? Kneglevic. Sì, tua madre è una Kneglevic. Ahah! Dai, gliela diamo buona, è Keglevic. Giusto. Però ho preso la Keglevic perché era quella che costava di meno al supermercato. Qual è quella che costa di più la vodka? Perché gliela diamo buona era sbagliato? No, hai detto Kneglevic ma è Keglevic. Eh, però Simo, abbassa come è che noi dobbiamo guardare. Abbassa come ti ho spiegato prima. Ma se io ho manco a disposto, come puoi pensare che questa cosa abbia influenzato? È solo per il naso. Ma dico... No, puoi abbassare che così guardi cos'era, scemo. Ah, 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 ah. Porco Dio, cosa ha capito quell'altro? Ragazzi, la prima... Mi è abbassata due secondi però. Oh, puoi abbassarla un secondo. Ci sono troppe luci, sono abbinato al buio. Ma vaffanculo. Mi è abbassata due secondi così. Ma tu hai paura? Hai paura? Quanta ne hai messa tu poi? Risposta esatta, Keglevic alla menta. Un applauso da Keglevic. Proseguiamo con la prossima, 1-0 per Dada, attenzione. Dai, dai, va bene. Ragazzi, togliamo sta cazzo di Keglevic. Vi do i bicchieri. Oh, questa era facile Simo. Eh, ma l'ho assaggiata un po' troppo. No, ma dico, adesso che ci arrivano quelle... Mancano altri nove. No, io ho iniziato con quella più semplice. Appunto. E anche quella più abituata a bere che eravamo. No, io sono abituato a bere molto moe. Moe. Attenzione, ragazzi. Ma ascolta, però... Te lo dico per una... Per agevolarci. Eh. Qualora dovessero uscire gin, vodka... E non posso dirti la marca. Ti dico solo se è vodka o gin. Ma non ci sarà questo problema, non ti preoccupare. Adesso, volevi sapere... Fermi, non annusate. No. Eh, allora metti i bicchieri lontani. No, guarda, io sono sentito sulla schiena. Eh, lontano di un po' perché l'odore arriva. Poi arriva. Sentite il rumore? Penso che sia un liquore dal rumore. Magari. Ok, ci siamo. Fermi. Che vi do il via. Indici... Scusami. Mette sempre davanti a voi. Indirizzaci le mani. Simo, ci sei? Sì. Occhio. Ragazzi, era il bail, scusami. Oh, due a zero per Dada. Eh, ma non mi dà tempo. Guarda che... Allora, se dovesse... A Sarabanda non è che quello che perdeva le vicino a cucinella non mi dava tempo, eh. Occhio, che clic... Che... Che cosa ha cliccato? Non devi andare a contatto col tuo collo. Perché? Muscoloso? No, perché è muscoloso. Si sentono i battiti, vai. Simo, non c'entra. Non mi dà tempo. Andi via, sei veloce. Eh, va bene. E c'è tempo per recuperare, dai. Vai, due. Vado? Sì. Con il terzo? Sì. Dada ha partecipato all'eredità. Sì, l'eredità. Ragazzi, vi dico subito che questo è un po' più difficile. Merda. Ah, finalmente. Perché, indovina praticamente, il belissimo tra i minuti. Io sto aspettando solo... Ma Davide, la scienza... E ascoltami, ascoltami che ti faccio una... Scusami che ti ho interrotto. Ti faccio una domanda, Riccardo. Eh? Nel caso una cosa fosse talmente difficile... Sì. Io posso non pronotarmi che se lui sbaglia il punto va a me. No, non è che se sbaglia il punto va a te. Dopo devi dire la giusta comunque. L'ho detto prima questo. E se non la so? Se non la sai, niente. Nessuno prende il punto. Adesso siamo due a zero. Ok? Ok. Chiaro? Non me ne frego un cazzo. Queste sono le regole e voi state zitti. Ma le bottiglie le hai acquistate da Zabbi dell'accedenza? Sì. Sì, sono bottiglie da 300 euro. Facciamo gli sponsor, che già fai miliardi. Eh beh, che fai? Questa è la terza bottiglia. Proviamo a farlo in gintoneria questa. Ah, che vero. Come è l'assenzio questo. Ma pensa se ci si mette l'assenzio dopo, bastardo. Eh, ma con l'assenzio poi lo beviamo al salto, poi mettiamo l'accellino così, facciamo... Ti ricordi quasi, eh? Ma che bella sera che è stata quella. Tu non c'è, io eravamo in buia. Comunque ragazzi, l'alcol quando vai a lavarlo è veramente difficile da togliere. Eh sì. Penso dentro il corpo che effetto fa. No, secondo me no. Ma stai zitto. Ragazzi, mano sul bicchiere. Dov'è? Fermi. Sì. Tu prendi la mano col dorso? Cioè prendi... Pronti? Sì. 3, 2, 1... Vai! Io! Giuda, aspetta, oh cazzo, che cos'è? Corco Giuda, quanto è forte. Il Simo si è perrosato prima di berlo qua. Appunto, l'ho detto, vai. Sambuca. Non è Sambuca. Vedete che questo era molto più difficile. Questo è un amaro Lucano. Corco Giuda, quanto è forte. Assolutamente no. Vai Simo. Potete dare altre risposte. Eh sì, ovvio, vai. Io ne ho un altro, io ne ho un altro. Prima Simo. Simo, prova a dare un'altra opzione. Porco Diaz. Mamma mia, mamma mia. Questo è forte. Questo è un whisky secondo me. No. Dine uno. Ah, ce l'ho io. Eh. Cosa? Jack Daniels. No. Merda, Simo, vai che ne ho un altro. Ultima, una testa. Vai. Terminate bene, se no zero a zero poi. Bad Bon. Io ce l'ho. Jägermeister. No. Basta. Avete perso ragazzi, guardate cos'è. Posso l'ultima? Dai, l'ultima. Cinar. No. Allora, c'ho l'ultima anch'io. Vai. Mamma mia, quante forma che è? Buona, già col naso era fortissimo. Puoi dirci quanti gradi è? No. Mamma mia, quante forma. Ma poi come? Sicuro? Stai bene o sei ubriato? Non ho capito io. Ma come fanno a bere sta roba? Questo deve bere uno. Ragazzi. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma tu stai continuando a bere questa cosa? Si. Aspetta con l'ultimo. Questo è un... Stai pregando? No. Non ce l'ho, non ce l'ho, vai. Aprite gli occhi. Cos'è la fata verde? Leggi bene. L'assenzio. È l'assenzio, ragazzi. L'avevo detto. L'avevo detto. L'avevo detto prima. Un applauso Cassino che l'ha indovinato. Non è valido. Però l'ha indovinato prima che... Ma non può essere l'assenzio vero, zio. Questo è assenzo, 60 gradi. Ne ha di più l'assenzio, 94. 94, l'alcol distillato, 94. Quello illegale, l'assenzio. Ma non è a blu l'assenzio però. Non è legale, l'assenzio verde. È a 60 gradi. Sono sicuro perché ho sboccato una volta grazie a questo prodotto. Ma l'assenzio, ragazzi, c'è uno sciottino di questo. Io continuavo ad assaggiarlo. Ragazzi, questo è... No, sai perché... Continuavate a dire... Sai perché l'ho detto assenzo? Perché pensavo, essendo più forte, lo mettessi tipo alla fine magari la roba più forte. Ma non dopo il Bayliss. Eh, ma io sono qui per mettervi in difficoltà, ragazzi. 60 gradi. 60 gradi. Pensa che i figurazzi abbiamo detto Marlucano, Jack Daniels. Vabbè, però quando ti si chiudono... Cioè, quando ti si attiva il gusto, è tutto diverso. I sapori ti attivano in maniera differente. Perché la prima roba sembrava Sambuca all'inizio. Sembra tutto Sambuca. Vabbè, l'odore è sentito, l'odore. È vero, un po' sembra Sambuca, cazzo, l'odore, eh. Sembra anice all'inizio. Eh sì, Sembra anice. Pensa a te. Madonna. Danda sape già affatto che continuava bene. Danda infatti è ubriaco. Umbriaco io, ragazzi. Un po' cazzo. Ragazzi, qua 0-0, mi dispiace con il punteggio. Quanto costa? 12 euro, mi parlo. Ragazzi, troppo l'assenzio. Vi metto i bicchieri qui. Oh, non vale fare come... Simo ha fatto il bastardo prima, ha detto io... Rivediamo dalla regia. Che cosa ha fatto? Hai detto io ancora prima di... Hai fatto il bastardo. Simo, ti vedo che l'hai messa male la bandana. Attenzione, ragazzi. Ha senzio continuare dopo questa mancia? Non ha molto senzio, però, ragazzi, questo... Mamma mia, dopo ci... Oh, dopo le finiamo fuori video. Sì, sì, per festeggiare anche la fine di quest'anno di YouTube. Oh, non si apre. Vuoi una mano? No. Perché tu tocchi e poi è un casino, eh. Con quelle mani turgide che hai. Ok, c'è una linguetta. Mi può aiutare questo suggerimento? Sì, ho capito che cos'è. Il champagne. E lo sentiremo dal... Tu l'indovini più prima che dopo. Ma adesso... Eh beh, tu mi dici questa linguetta che... Vado? Sì. Non l'ha stappato, quindi non gli c'entra. Aspetta, non ho finito. No, il champagne. Io domani il tappo. Ok, vino. Merda. Attenzione, Roberto. E da come esce sembra vino, eh. Questo è il vino quello che compro io per fare i video di Esperenze e DM. Ragazzi. Dov'è? Ok. Ci sei? Ci siete? Sì. No, lo do, ma aspetta. Sta già non usando Simo, bastardo. No, ho preso il bicchiere. Non l'avevo neanche preso il bicchiere. Vai. 3, 2, 1, via! Mmm. Io. Eh, Simo, per primo. Ma non l'ha detto io. No, ha fatto mmm. Ho fatto mmm. Ma c'è ancora la roba in bocca. Eh, vabbè. Ma ragazzi, allora le regole sono regole, però, eh. Ce l'ho, ce l'ho. No, non è io. Anch'io sono... Eh, l'ho assaggiato. Ma ragazzi, io ho detto un verso qualsiasi con la mano. Se c'ha la roba dentro in bocca, vale fare mmm. Eh, ma perdila. Comunque l'ha assaggiato stavolta, eh. Dopo l'ha detto. Posso? Assolutamente sì. Limoncello. Giusto! Applaudi, date un po' di fortità, per favore. No, perché non ha eseguito le regole. No, ma dai, è valido. Sì, sì, è valido sto giro. Allora, dal prossimo giro potete dire qualsiasi verso. Un verso! Lui l'ha alzata la mano, eh. Eh, per se lo faccio come i primi due ho messo in bocca. Ho assaggiato, il tempo di metterlo giù l'avevi già detto io. E là non ce la faccio mai a pialli. Non ti preoccupare. Scusa, scusa, scusa. Ho preso un po' troppo impressionante. Ragazzi, era limoncello. Buono questo, no? Buono, questo dopo ce l'ho finito. Era sardo? No, era i GP di Sorrento. Ah, eh, la terra dei limoni di Sorrento. Eh, sì, sì. E questo ha 32 gradi alcolici. Come 32? C'era la metà dell'assenza di limoncello? Eh sì. Beh, 32 comunque non è poco, eh. È tantissimo, è più del vino. Eh sì. Molto più del trito del vino. È il quinto questo, eh. Già, uh, vuole il tempo quando ci si bere. Quando ci si ubriaca il tempo vuole sempre, ragazzi. Madonna. Però comunque questo è un tipo d'acidità io, eh. D'acidità? Eh, assenso di limoncello. Io sto sbiascicando. E? Se io fossi sbronzo? Ubriachissimo. Ma come ubriachissimo? Eh, oh, l'assenza mi è entrato nel corpo. Ma stai... Ma poi sai cosa? Quando hai gli occhi chiusi ti sale il doppio. Vaffanculo. Allora ubriachiamoci con gli occhi chiusi la prossima volta. Allora, la prossima volta di una discoteca... Se questo video supera i 100.000 like... Apriremo. Assumeremo l'alcol direttamente... Dall'occhio. Dall'occhio. Dalla 100.000 like dall'occhio ragazzi. No, voi non aprirete. Una discoteca dove bisogna stare tutti con gli occhi chiusi. E quelle con le cuffie... No, con la bandana tutti. E devi solo andare a sensazioni. Eh, ho capito quanti... Allora, sentite il peso? Questo. Questo è vino. È tutto vino. Prima non era vino. Non l'hanno usato perché lo capite. Mettete la mano nel bicchiere. Dentro? Non dentro. Io sono in mano, adesso... Dove c'è il bicchiere per curiosità? Se l'hai in mano, ma molto più vicino al suo corpo rispetto a te. Così e giù siamo pari? Io sono tutta. Un po' più avanti, Dada. Ancora? Più avanti, no? Ok, adesso sì. Ok. 3, 2, 1... Vai ragazzi! Alza la mano. Oddio che schifo, che è sta merda? Porco Giuda. È rum. Sì, quale? Eh, porco Dio, alza Pampero, ti dirai rum bianco. Qual è la tua risposta definitiva? Ascolta, non sono mica un sommelier che ti devo dire. Porco Dio, rum non ti basta? No. Cambia da rum a rum. Dai Riccardo, rum scuro o rum chiaro? Che cazzo è? Cazzo ne so io. Chi l'ha mai bevuto il rum? Ma sei a casa tua sei pieno di bottiglie lì? Sì, appunto sei pieno di bottiglie di rum. Che cazzo vuoi? Una ce l'ho che me l'ha portata lui, ma è aperta. Rum, rum, Pampero. È la tua risposta definitiva o no? Perché la marca cambia anche? No, io ti dico, è la tua risposta definitiva o no? Sì. Ed è giusto! Ragazzi, guardate la borsa. È iconica questa bozzetta. Bella. Quella che ti ho regalato io è più bella? Sì. Che è l'interno? Quella è più piccola dentro la giunta. Sì. Bravo, esatto. Pampero 40 gradi, ragazzi. Questo c'ha 40 gradi. Ti fai uno sciottino d'assenso e uno di questi sei al 100% bravo. Sei al 100% della tua potenza. Blocchi superpoteri. 100% brumotti diventi. Comunque vorrei fare i complimenti a tanta perché, cioè, indovinare rum così significa che hai bevuto tanto. Addirittura Pampero. Sì, da quando avevo 16 anni usavo a fare rum e vera. In tutto ciò Awed non ci sta guardando ancora. Cioè noi lo stiamo guardando da Awed alla sciarpa davanti agli occhi. No, adesso l'abbassata per vedere il Pampero, eh. No, e noi? Se l'abbassi così intanto che si parla, non succede niente. Comunque, ragazzi, io questo vi dico un piccolo aneddoto. Ti sei obbligato. Non riesco più a berlo perché una volta ho preso una fracassata. Nel senso che ho sboccato. Ecco. Con questo. Perché facevamo gli sciottini di rum e pera. Rum e pera. Mamma mia, devastante. Ma rum col Pampero. Rum Pampero e pera. Rum Pampero e pera. No, beh, sono famosi però gli sciottini. Se tu bevi rum e pera la sensazione è figa. Però posso dire che loro sono agevolati in quanto nel triveneto. Beh, sì. Ex alcolisti. Ex alcolisti. Vabbè, ragazzi. 3 a 1 per da. Oh, devi recuperare. Eh, lo so. Mi avete messo a fianco uno del sesto, ma avete messo. Allora, la prossima volta vi faremo provare dieci pizze diverse. Bello, però. Eh, sì. Mai una volta del genere. Vi ha fatto già dieci torte di giro. Comunque, Ricky, io ho la stessa cosa di te con la grappa. Che ho fatto un cioccolata di grappa. Ah, sì. E non posso più neanche sentir l'odore. Se me la metti vomito. E tu, Simo, con quale ce l'hai? Con la sambuga. Mi fa schifo proprio. Eh. Allora, ragazzi, il giro di Bo siamo al sesto. Attenzione. Bicchiere vuoto. Eh, devi sapere, Simo. 3 a 1 per Dadda. Devi sapere, Simo, che io quando inizia il giro di Bo incomincio a calare. Perché? Bo gli ultimi cicco tutto. Sì, è vero. Quindi approfitta, perché perdo la concentrazione proprio. Vabbè, ma ovvio ti sei fatto un shot d'assenzio, uno dei Pampeto, non è così. Quindi vai, dai il tuo meglio. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Strano sto rumore che è. Plasticoso. Sì. Vero? Ma questo qua è il tavernello. Allora. Magari il tavernello scende giù che non muore. Eh. Ok. Mettete la mano. Sì. Oh. Mettete le mani. Siamo pari di nuovo? Giù sta? Di lunghezza. Sì, sì. Ok. Pronti? Sì. 3, 2, 1, via, forza. Dadda di pochissimo. Tavernello. Tavernello. Ma dai, ma veramente. Ma dai. Simo, cosa avresti detto? Eh, vino bianco. Eh, vabbè, dai, ci sta comunque. Però, Dadda addirittura è indovinato il tavernello. Oh, come... Che papille gustative c'ha. Ma lui, c'ha Sarabanda dell'alcol. E lui è l'uomo gatto. Tu sei Valentina, quella ceca di Sarabanda. Gradi il tavernello? Valentina perché siete bendati. Perché? Ah, sì. Lei era ceca. Ah, non ho visto quella puntata. No, quella puntata. È durata 4 mesi. È durata 6 anni, porco due. Avrà 12. 10% d'alcol. 10. 10,5%. Tavernello, ragazzi. Chi siete, ragazzi? Sì. Comunque io, insomma, sono un po' più lento perché sono un po' di poco ondediaco. Io, per esempio, quando vado in serata bevo sempre la stessa cosa. Sempre Gin, Monkey e Lemo. Gin, Monkey e Lemo. Quindi, capito, non differenzio mai. Ah, quindi. È il mojito. Quindi, però, Dada che ha bevuto da qualunque in vita sua riesce anche indifferenziale. Che cazzo sei alcolizzato? Io guarda che questi qui sono ricordi di 20 anni fa. Voi perché non conoscevate? 30 anni fa. 18. Voi non conoscevate? No, io ne ho 33. Appunto, a 13 bevevi? Eh, 17 anni fa. 16 bevevo. Sì, ma voi non avete mai conosciuto la versione araima milanese di Dada e Vicky. Ah, vabbè. Di Dada che dormiva sul divano di Vicky 5 giorni su 7. Sette su sette, forse. Belli quei periodi. Non avevo pensato a un tempo di cosa parlavamo e adesso di cosa sono parlato. Ah, è vero. E di cosa stavate parlando ieri? Di un tuorco. Ma, pensa a te. Di Tragunte. Con me siamo tutti i nonni. Io e Vicky, sei giorni che mi parla di alberi di Natale e decorazioni. Immagino che tu ne abbia le palle piene. Bravo. Ragazzi, quando c'è da applaudire, c'è da applaudire. Allora, questo ragazzi, ci siamo. Eh, ma quanto è denso. Ho già capito cos'è. Oh, non fa neanche rumore. No. Cosa stai mettendo? Aria. Ecco qua, è uscita la bolla. È uscita un po' di bolla. Simo, ah, well. Cosa è la bolla? Eh, bolla nel senso che si è incominciato a sentire. C'era una bolla d'aria. Prendete il bicchiere, ragazzi? Ci sei? Dai che hai creato in tempo. Questo è il tuo, eh. 3, 2, 1, vai. Simo, più veloce però, eh. Il tuo problema è il... Sì. Eh, Simo sta a trevole a portarsela alla bocca. Eh. Oh, con giuda. Questo è... Oh, io. Eh? Oh, con giuda, quanti fogli. Eh? Cosa ha detto? Oh, con giuda, la lingua. Oh, con giuda. È la madonna. Questa. Questo è Jägermeister. Ma hai detto i coglioni se puoi Jägermeister di questo. Howard, cosa avresti detto? Hai una risposta almeno. Sì, avrei detto Sambuca, ma non è vero. Ma va. È lo Jägermeister, ragazzi. Ma porco giuda. Tu pensa che mia madre aveva un bar. Tua madre deve stare attenta a te. Grazie Paola che mi hai fatto vincere questa smash. Forza Jägermeister. Certo, Jägermeister e c'ha 35 gradi volumetrici. Ragazzi, prima di essere una persona fitness e in principio con la salute ero uno schifo. Non diciamo le altre cose che facevi oltre al bico. No, esatto. Ma queste veramente sono robe di 15 anni fa. In che senso? Che sono ric... Cioè, mi ricordo... Io non berrò così da cosa a 10 anni. Queste vivite sono invecchiate da 15 anni. Eh, pensavo che fossero bottiglie danissime che avevi. Sono tutti i ricordi di quando bevevo ovvio. Quindi per te ogni sciottino è un déjà vu. Esatto. Dovete riportare questo a Jesolo? Questo ero a Dignano Sabbia d'Oro. Ragazzi, decretiamo ufficialmente il vincitore di questa sfida, ovvero Nathalie Ilvadetta. Io non sarei molto orgoglioso di aver imbinato ogni tipo di alcolico. Io anch'io eh, Dada. Non è una cosa di cui andare pieno. Ma eh, ma sono anche passati di alberghiero questi ragazzi. Ma che cazzo facevate in casa per cogiungere gli sciottini? Ragazzi, la prossima sfida riconosceremo 10 sostanze stupefacenti diverse, tipo Crocodile, Crocodile, Cristalmette e vediamo gli effetti. Ragazzi. Vai. Nonostante ci sia stata una netta vittoria. Oh, mollo un po' la presa qua. Aspetta, facciamo una cosa. Eh. Posso sbendermi un attimo? Sì, un secondo sì. Anche io mi sbendo. Per cosa? Fammi mettere Righi qua, fammelo sfidare a Righi adesso. E vai tutti là. Ah no, ma lui sa già compagni lui che sto dicendo. Che cazzo sta dicendo? Scusate. Hai visto poi con quale gesto di sfida? Fanno solo un po', vediamo com'è. Sì, sì, vediamo. Guarda che io sono qua. Al 100.000 like sfideremo Righi contro Dada. E lì vediamo chi è il vero Friuliano. Friuliano? Friuliano? Lui. Vini pregiatissimi da 1200. Ma lui è Friulano. Io sono milanese. Tu sei milanese. Tu sei turco, non sei milanese. Tu sei turco. Sei pronto? Nella Cappadocia. Vino. Frizzante questo. No, è vino rosso. È gazzosa. Buona gazzosa. Prendete il vostro bichet. È tutto sporco, pulisci un attimo. È tutto sporco di scudo. Ah, mi devi pulire, no? Dopo pulisco. 3, 2, 1, via. Io ce l'ho ma... Questa è acqua santa questa. Lascio dire lui. Come acqua santa? Ma che... Non ho mai assaggiato. Dai Simo. Simo. Questo è quello che ti dicevo. È tipo l'acqua... Quella potentissima. Questa è Absolute. Che... Che acqua potentissima? Quella da che... Quella che ti dicevo prima. L'acqua... Gar... Gar... Gua. Ah, l'acqua... È la grappa, diceva. La grappa? Eh, eh. No, non è grappa. Questa è vodka. Daniele, mi dispiace, ma la tua risposta non è corretta. Ma è vodka? Non è vodka. Eh, allora Gin. È stata per un'altra vodka. Eh... No, Gin no. Eh... 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 Allora... Ah, vuoi provare la tua risposta e poi vi dico esattamente cos'è? È un whisky. La risposta corretta è Gin. È un Tankeray. Guardatelo. Bottiglia azzurra. Buona questa. No, quello è... Eh, quello è il Gin Monkey. Capito? Ma fa schifo proprio questo. È che il Gin è quello che bevi sempre, eh? È che cambia così tanto qua a Lemon Dentro? Certo. Ne mancano due. Siamo ancora... Ne mancano due. Manca poco, eh? Pronti? Sì. Beh, qui potremmo anche andare un po' ad esclusione. Andate un po' ad esclusione. Fate come... Senti. Questo è Spirito. Questo è quello per cui... Spirito Santo. Spirito Santo. E Nugno è Spirito Santo. Ma ci hai preso cose particolari. No, ho già fatti difficoltà a indovinare queste. Dov'è la mia mano? Io sono più bravo su quelle particolari. Chi è che fa fatica a indovinare chi? Mettete la mano. Eh. 3, 2, 1, vai. Io. Eh. Eh sì, è Sambuca, dai, ragazzi. Sì, no? Eh, Sambuca, poco più. Cazzo, ma dovevi indovinarla, però. No, ma... Allora... Ma questo sei però... Tanto hai vinto. Ma ho anche aspettato un sacco. Eh, aspetta un altro po'. Tu non l'avresti indovinata perché hai talmente detto Sambuca... No, perché l'anice arriva dopo. E tu... No, io te lo dico. Io adesso tu ti aspettavi. No, lo sapevo che più o po' doveva arrivare Sambuca. Ti aspettavi. O un vino rosso. Ma che vino rosso? Questo è vino rosso. Voglio fare una domanda. Vediamo se è un uomo veramente. Metti in gioco la tua sfida con quest'ultimo. Sì. Eh! Grande! Vai, anche se... Anche se Rosetta è 1, vai, vai. Non ti vede. Cosa state facendo? Cosa sta facendo? Sembra... Luca ha giurato quando... Dai, oh! Però... Concentrati questa, eh, Simo. Concentrati, ragazzi. Simo, puoi veramente recuperare tutto in una mano. Pronti? C'è tensione qua, eh. C'è tensione. Hai già pezzato? No. Oh, qua ragazzi non vale imbrogliare né niente. Già Dada ti ha dato un'altra possibilità, Simo. Non fare il napoletano per cortezza. Quindi Simo, giriamo la faccia a destra così non sentiamo niente gli odori. Esatto. No, non a destra perché sennò... Ok. Che bel momento questo, eh. Veramente un bel momento. Come nel Far West quando si spagna. Esatto, ci stiamo allontanando più in piano. Questa, ragazzi, è la bozza finale. Me lo metto lontanissimo da mettere e non lo muovete da qua. Che sento. Questa è casato cola. Buona la Coca Cola casato. La sgasato cola. Dove sei? Allungate il braccio verso il bicchiere e tenetelo qua fermo. Eh, non so, non so dove. Qua, fermo qua, così è lontanissimo. Ah, lontanissimo. Sì, lontanissimo qua. Vediamoci con questo la mano che è... Che bel momento. Ah, vai un po' più avanti. No, di qua, dall'altra parte. No, verso di me. Hai perso la cognizione dello spazio-tempo? Eh, non so, fermo. Stai battendo forte il cuore, ragazzi. Sono agitantissimo. 3, 2, 1, vai. Io. Buono questo. Malibu. Tu, Simo? E Malibu. E Malibu! Toglietevi le bende e le bende. La sciarpa del baduzio. Allora, ragazzi. Dad aveva già vinto prima, ma ha vinto nuovamente. Ha stravinto quasi. Quindi, adesso... Io lo scelgo lo sottino che voglio fare. L'assenzio. Eh, sto cazzo. Faccio fare lo sottino di assenzio? Sì, sto cazzo. Sto scherzando. No. Io pensavo fosse serio. No. Cosa scegli? Il rum. Vodka menta? No. Vodka menta? No, menta è troppo facile. Devo guidare. Se ti facessi fare un Sambuca lo accetteresti. Ma Sambuca li farò un po' vomitare, ha detto. Ma no, è una cosa psicologica. Le Jägermeister? Io andrei o di Limoncello o di Baileys. Dai, Limoncello che è buono, però a 60 gradi ti tirano la massa. No, 32 gradi. Limoncello. Dai. Qual è l'altro livello di Limoncello? C'è il Limoncello, il Baileys, il vodka menta? O te lo faccio fare di Malibu. Buono Malibu. E questo qua è il Malibu. Dai, ce l'hai già là. Cos'è? Che cazzo sei al bar che stai scegliendo per copper prenderlo? Non ho capito. Ci potete vedere un minimo di... Sottino per Awed, ragazzi. Viva! Tu che non hai venuto niente fino adesso, vuoi farli compagnia? Vabbè, lascio. Dai. Vai, butta calatolo giù. Porco. No! Porco. Oh, finiscilo. Dai, dai, giù, giù. Dai, Simo. Giù, 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 giù. Sì! E pensate che sono solo le 5 di pomeriggio. Esatto. No, vada. Oh. Buttalo. Andalo giù, eh. Buttalo. No, no. Dai, Awed. Con calma, con calma. Pensate che voleva tenere le bocca finito il video. No, voleva tagliare il video. Noi non siamo così. Non siamo fake. Non siamo fake. No! Bravo! Ragazzi, chiudiamo qui ufficialmente questo video tendenzialmente alcolico. Awed, c'è... Awed, si è pentito di essere venuto. Ragazzi, grazie di cuore veramente per aver secondato quest'idea. Grazie. La prossima volta fatemi sfidare un bambino che non ha mai bevuto manco un bicicletta d'acqua. Secondo me perdi comunque. Ecco, giù, che botta è messa a salire. Ragazzi, ci vediamo qui perché adesso vediamo che cosa succederà ad Awed. Ve lo faremo sapere nella prossima puntata. Grazie per aver visto questo video. Noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego! Te shisharot, buen piere! Maituga, mami! Ciao! 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 Ciao!